Un giorno dell'Immacolata completamente diverso per chi opera negli hub vaccinali, siamo stati in quello della caserma Zappalà dove militari e operatori sanitari insieme erano al lavoro per garantire non solo la terza dose ma anche la seconda e per i più ritardatari addirittura la prima. Sono infatti circa 100 ogni giorno i salentini che scelgono di aderire alla campagna vaccinale per la prima volta, oltre 1000 quelli che invece si sottopongono alla terza dose con l'obiettivo di vivere un Natale più sereno e senza particolari restrizioni. Siamo molto soddisfatti di come sta andando la campagna vaccinale perché ogni giorno riusciamo a somministrare circa 2000 dosi, oggi siamo già sull'ordine delle 300 di un giorno di festa, arriveremo sicuramente a un 700 dosi. Per quanto riguarda invece la tipologia di queste dosi, quanti pazienti stanno facendo ancora la prima e quanti invece lavorano verso la terza? Stiamo somministrando prevalentemente terze dosi, su circa 2000 dosi somministrate al giorno 80-90 sono ancora prime dosi di persone che avevano atteso finora e si sono finalmente convinte. Anche noi abbiamo colto l'occasione e ci siamo vaccinati per la terza volta per proseguire il nostro lavoro tra la gente e con la gente, con maggiore serenità.